Operazione dei carabinieri questa mattina nei comuni di Mercato Sanseverino, Fisciano, Castel San Giorgio e Napoli. I militari hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP su richiesta della Procura della Repubblica di Nocera Inferiore nei confronti di cinque indagati, ritenuti responsabili di concorso in furto aggravato di autovetture, ricettazione, riciclaggio ed estorsione. Tutti reati commessi a Mercato Sanseverino, Fisciano, Pellezzano e nell'Interland napoletano. Le indagini hanno portato a scoprire che il gruppo criminale, dotato di un'organizzazione accurata, era dedito al furto di autoveicoli di media e grossa cilindrata da immettere poi sul mercato previa contraffazione del numero di telaio. Sei i veicoli rubati recuperati, sequestrate invece l'officina presso la quale erano state occultate numerose centraline e pezzi di veicoli. L'autorità giudiziaria ha disposto la custodia cautelare per tre indagati, mentre gli altri componenti del gruppo sono stati sottoposti agli arresti domiciliari.